... Freddo pungente, le 10.30, il sole cerca in vano di farsi sentire nella quiete di Borso, poi un grande, grandissimo botto. Un'auto ribaltata in mezzo alla carreggiata di via Molinetto. Forse una seconda auto lascia indisturbato il luogo dell'incidente. Ero a letto, ho sentito un botto tremendo, sono uscito, ho visto la macchina rovesciata e ho chiamato subito i soccorsi. A bordo quattro persone, tra i 30 e i 50 anni. Arrivano i mediati soccorsi che trasporteranno i feriti, uno in condizioni critiche e tre meno gravi, tra gli ospedali di Bassano e Castelfranco. L'elicottero del Suem di Treviso si leverà in volo invece verso il caffoncello. Stando alle prime informazioni, l'auto, forse per evitare uno scontro frontale con una seconda auto, è sbandata, ha sbattuto violentemente contro il platano sul limitare della strada e si è ribaltata. Dall'Albania, i quattro feriti. Sono qua per vacanza, quattro giorni. Mi ha detto l'autista che ha cercato di evitare un scontro frontale con uno che stava sorpassando e ha optato per andare addosso all'albero piuttosto che addosso all'altra macchina. Erano coscienti, però non me la sentivo di rovesciare l'auto perché dopo detto si facevano altre botte. La municipale di Borso del Grappa sta ancora vagliando le testimonianze per ricostruire la dinamica dell'incidente.